quella villa quel palco in cui madame de guermont riversava la sua vita mi sembravano luoghi non meno magici dei suoi appartamenti i nomi di parma di guermont baviera di guisa differenziavano da tutti gli altri posti di villeggiatura in cui si recava la duchessa le feste quotidiane che la scia della sua carrozza collegava al suo palazzo se mi avessero detto che la vita di madame de guermont consisteva successivamente in quelle villeggiature in quelle feste non mi avrebbero fornito su di lei nessun chiarimento ognuna di esse dava alla vita della duchessa una connotazione diversa che ne trasformava il mistero ma il suo mistero restava impenetrabile si spostava semplicemente protetto come da una barriera rinchiuso in un vaso in mezzo ai flutti della vita di tutti la duchessa poteva far colazione davanti al mediterraneo durante il carnevale ma nella villa di madame de guise dove la sovrana della società parigina nel suo vestito di piqué bianco in mezzo a numerose principesse non era che un invitata simile alle altre e con questo più conturbante ancora per me più se stessa in quell'essersi rinnovata come una stella della danza che nella fantasia di un passo prende via via il posto di ciascuna delle ballerine sue compagne lei poteva guardare le ombre cinesi ma una serata della principessa di parma ascoltare la tragedia o l'opera ma nella barcaccia della principessa di guermont siccome noi localizziamo nel corpo di una persona tutte le possibilità della sua vita il ricordo degli esseri che conosce che ha lasciato o andrà a raggiungere se avevo saputo da françoise che madame de guermont sarebbe andata a piedi a colazione dalla principessa di parma io verso mezzogiorno la vedevo scendere dal suo appartamento in un abito di raso color carne il viso della stessa sfumatura come una nuvola quando il sole monta allora in quel piccolo volume come in una conchiglia tra le sue valve rivestite di madre perla rosa vedevo riuniti dinanzi a me tutti i piaceri del faubourg saint germain mio padre aveva al ministero un amico un certo A.G. Moreau che per distinguersi dagli altri Moreau aveva cura di far sempre precedere il suo nome da quelle due iniziali di modo che per abbreviare veniva chiamato A.G. Ora non so come questo A.G. si trovò ad avere una poltrona per una serata di gala all'opera e inviò il biglietto a mio padre e siccome la Bermà che non avevo più visto recitare dopo la mia prima delusione doveva esibirsi in un atto di fedre la nonna riuscì ad ottenere da mio padre che mi cedesse quel posto per essere sincero non attribuivo ormai più nessuna importanza al fatto di poter sentire la Bermà evento che qualche anno prima aveva suscitato in me tanta ansia e non senza malinconia constatai la mia indifferenza per ciò che una volta avevo anteposto alla salute e al riposo il desiderio di poter contemplare da vicino i preziosi frammenti della realtà che la mia immaginazione intuiva non era meno appassionato di allora ma ora la mia immaginazione non le attribuiva più alla recitazione di una grande attrice dopo le mie visite a Elstir avevo riversato su certi arazzi su certi quadri moderni la fede interiore che avevo riposto un tempo in quella recitazione in quell'arte tragica della Bermà la mia fede il mio desiderio non dedicavano più alla dizione alla mimica della Bermà un culto incessante il doppio che possedevo di esse dentro di me si era logorato a poco a poco come quegli altri doppi dei defunti dell'antico Egitto che bisognava continuamente nutrire per conservare loro la vita quell'arte era divenuta esile e miserevole nessun'anima profonda l'abitava più nel momento in cui approfittando del biglietto ricevuto da mio padre salivo lo scalone dell'opera scorsi davanti a me un signore che scambiai dapprima a causa di una certa assomiglianza nel portamento per monsieur de charlus ma quando volse il capo per chiedere un'informazione alla maschera mi accorsi di essermi sbagliato non esitai tuttavia a situare ugualmente lo sconosciuto nella stessa classe sociale del barone non solo per come era vestito ma anche per la maniera con cui si rivolgeva all'addetto ai biglietti e alle maschere che lo pregavano di aspettare perché a prescindere dalle caratteristiche individuali c'era ancora a quell'epoca una differenza molto marcata tra un dandy ricco appartenente a quella parte di aristocrazia e qualsiasi dandy ricco appartenente al mondo della finanza e della grande industria là dove uno di questi ultimi avrebbe creduto di affermare la propria eleganza con un fare perentorio arrogante nei riguardi di un inferiore il gran signore dolce sorridente aveva l'aria di considerare come un privilegio della sua buona educazione ostentare umiltà e pazienza e fingere di essere uno spettatore qualsiasi è probabile che al vederlo dissimulare sotto un sorriso pieno di buonomia il limite invalicabile del piccolo universo speciale che portava in sé più di uno tra i figli di qualche ricco banchiere entrando in quel momento a teatro avrebbe scambiato quel gran signore per un uomo qualsiasi se non gli avesse trovato una straordinaria somiglianza con il ritratto riprodotto recentemente nei giornali illustrati di un nipote dell'imperatore d'Austria il principe di Sachs che si trovava per l'appunto a Parigi proprio in quel momento sapevo che era grande amico dei Germant giungendo a mia volta accanto all'addetto al controllo dei biglietti sentì il principe di Sassonia o presunto tale dire sorridendo non so il numero mia cugina mi ha detto che dovevo semplicemente chiedere della sua barcaccia forse era il principe di Sassonia forse nei suoi occhi c'era l'immagine della duchessa di Germant che in quel caso avrei potuto vedere vivere uno dei momenti della sua inimmaginabile vita nel palco di sua cugina quando diceva mia cugina mi ha detto che dovevo semplicemente chiedere della sua barcaccia tanto quello sguardo sorridente particolare e quelle parole così semplici mi accarezzavano il cuore molto più di quanto non avrebbe fatto una astratta fantasia alternando una felicità possibile e un prestigio incerto perlomeno dicendo quella frase all'addetto ai biglietti egli instaurava in una banale serata della mia vita quotidiana un eventuale collegamento verso un mondo nuovo il corridoio che gli venne indicato dopo aver pronunciato la parola barcaccia e nel quale si inoltrò era umido e scrostato sembrava condurre a grotte marine al regno mitologico delle ninfe delle acque non avevo davanti a me che un signore in frac che si allontanava ma era come se lo facessi seguire dalla luce di un riflettore diretta però maldestramente e senza riuscire ad applicarla esattamente su di lui dall'idea che fosse il principe di saxe e stesse andando a trovare la duchessa di germant e benché fosse solo quell'idea esterna a lui impalpabile immensa e scattante come una proiezione sembrava precederlo e guidarlo come quella divinità invisibile al resto degli uomini che segue dovunque il guerriero greco